Un originale incrocio di arti dal cinema alla danza è il filo conduttore di ModArt. Un evento in programma il 13 gennaio al Cityplex Moderno di Sassari. Abbiamo Emanuele Floris. Al Cityplex un progetto pilota di incontro tra le arti. 13 gennaio nella multisala Spazio ModArt. Evento di danza, teatro, cabaret, videoarte e poesia con la partecipazione di noti artisti isolani. Performance diverse e accomunate da un filo rosso. Avviare un dialogo tra l'arte performativa, la musica, il teatro, la danza, il cinema, ma uscendo dallo schermo. ModArt si inserisce in continuità con l'idea base del Cityplex Moderno. Fondare nel centro città una struttura appunto di riferimento per l'arte in senso più ampio. ModArt è la prima manifestazione, la prima iniziativa che mettiamo in cantiere proprio in questo senso, in questa direzione. Anche perché la struttura nel 2023 sarà implementata con ulteriori spazi adibiti ad uso spettacolo e manifestazioni culturali. Annunciata infatti la prossima riconificazione del giardino antistante il cinema per future manifestazioni culturali. Un impegno al rinnovamento premiato anche dal biglietto d'oro come miglior multisala d'Italia. La segna si rivolge a tutti, veramente a tutti, dai bambini, alle famiglie, a tutti coloro che hanno desiderio di fare una nuova esperienza e di abitare uno spazio come il cinema in maniera differente. Tra gli artisti in cartellone Jacopo Cullin, Compagnia Danza Estemporada, Ila Pola, Ibattera Spit e Pino Gli Anticorpi.